Andiamo, ragazzi! Preso! Basta così. La lezione è terminata. Ci stiamo facendo prendere calci nel sedere. Andiamo solo 50 secondi prima che la tossina venga rilasciata. Ehi, chi vuole giocare alla cavallina? Cavallina? Cosa? La cavallina, salta il cavallo. Qualcuno lo chiama salta il soldato. Aspetta. Sì, giochiamo alla cavallina. Ma perché dovremmo... No! Facciamo quello che dice Leo. Apri le danze. Cosa? 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 Zero, 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 tre per cento! Ci sto! Nessuno si muova! Per nessun motivo! Ma Leo! Ha detto nessuno si muova! Leo! Sto per mollare! Shrader! C'è rimasta solo questa! Ragazzina! Quello appartiene a me. Non volate! 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 Aprile! Ti ho preso, fratello! Tieni di stretta, non mollare, Aprile! Ti ho presa! Fammi dondolare verso di lui! Fallo! Quella è la mia ragazza! A presto!